Il silenzio. Il silenzio ha molte qualità. C'è il silenzio tra due rumori. Il silenzio tra due note. È il silenzio che si allarga nell'intervallo tra due pensieri. C'è il singolare, quieto, pervadente silenzio che si diffonde in campagna alla sera. C'è il silenzio nel quale si ote il latrato di un cane in lontananza o il fischio di un treno che arranca per una ripida salita. Il silenzio che regna in una casa quando tutti sono andati a letto e il suo particolare risalto quando ti svegli nel cuore della notte e ascolti un gufo gridare nella valle. E c'è il silenzio che precede le risposte della compagna del gufo. C'è il silenzio di una vecchia casa abbandonata. È il silenzio di una montagna. È il silenzio tra due esseri umani quando hanno visto la stessa cosa, sentito la stessa cosa e agito. Quella notte, specialmente in quella valle remota, con le antichissime colline e i loro macigni di forma singolare, il silenzio era reale, come la parete che toccavi. E tu guardavi dalla finestra le stelle lucicanti. Non era un silenzio autoprodottosi. Non era perché la terra fosse quieta e gli abitanti del villaggio fossero addormentati, ma veniva da ogni dove, dalle stelle remote, da quelle colline scure e dalla tua mente, dal tuo cuore. Questo silenzio sembrava coprire tutto, dal più piccolo granello di sabbia del greto del fiume, che conosceva acqua corrente solo quando pioveva, all'alto frondoso fico di Banyan e una leggera brezza che cominciava a aspirare. C'è il silenzio della mente, che non è mai toccata ad alcun rumore, da alcun pensiero o dall'effimero vento dell'esperienza. Questo è il silenzio innocente e pertanto infinito. Quando c'è questo silenzio della mente, da esso scaturisce l'azione e questa azione non è causa di confusione o infelicità. La meditazione di una mente che sia totalmente in silenzio è la benedizione che l'uomo sempre cerca. In questo silenzio ogni qualità del silenzio è. Cioè quello strano silenzio che regna in un tempio o in una chiesa vuota, sperduta nella campagna, senza il rumore di turisti e fedeli. E il pesante silenzio che regna nell'acqua è parte di quello che è fuori del silenzio della mente. La mente meditativa contiene tutte queste varietà, tutti questi cambiamenti e movimenti del silenzio. Questo silenzio della mente è la vera mente religiosa e il silenzio degli dèi è il silenzio della terra. La mente meditativa scorre in questo silenzio, e l'amore è la via di questa mente. In questo silenzio c'è la beatitudine e il riso. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video!